Oggi vi parlerò della cometa Elenin. A metà ottobre 2011 passerà vicino alla Terra. Praticamente non si schianterà contro la Terra come taluni sostengono, entrerà però nell'atmosfera terrestre. Cosa accadrà? Che praticamente il gas metano che è all'interno della cometa brucerà per l'attrito e per l'ossigeno dell'atmosfera terrestre, creando una sorta di propulsione e quindi la cometa non impatterà contro la Terra perché sarà spinta all'infuori dell'atmosfera.